Giorni frenetici in cui si è svolto più di un incontro tra il giovane imprenditore Salvo Palella, 25 anni, di Milano, ma originario acese, immobiliarista, e la proprietà della Ciale Calcio rappresentata dal presidente Rosario Pennisi e dall'amministratore delegato Giuseppe Cocuzza. C'è un preliminare d'accordo, c'è la visione dello Stato della società che adesso verrà sottoposto al commercialista di Palella, poi ci sarà la firma per il trasferimento di tutte le quote dei vecchi al nuovo proprietario. In questa fase, sino alla fine del campionato in corso, il suo vice sarà Rosario Pennisi e anche Giuseppe Cocuzza potrebbe ricoprire un incarico, ma l'amministratore delegato sarà un uomo di fiducia del presidente Palella e arriverà da Milano. Intanto stamane, dopo l'appuntamento in via Pasiano, hanno incontrato il sindaco, l'assessore Ramo, il presidente del Consiglio Comunale, insieme a Gianluca Cannavò, Tredunion, del neopresidente, con Acireale e l'Acireale. Nella lunga chiacchierata, tanti gli argomenti venuti fuori, compresa la richiesta che verrà fatta la Lega di poter giocare a Ciale Ragusa sabato 19 gennaio in anticipo ed in notturna. Ma tante le novità che poi pian piano verranno rese note una volta che sarà messo nero su bianco. Intanto lo conosciamo. Ho il piacere di essere tornato nella mia città e avere la possibilità di portare avanti quello che è un sogno importante per l'Acireale. Ho avuto il piacere di prendere in carico la squadra da Saro, che oltre a essere un avvocato di stima pure nelle mie parti, perché se ne parla pure a Milano, ho avuto il piacere di conoscere anche Giuseppe Cucuzza, che è stato veramente una persona a disposizione, che mi ha dato tutto il materiale. Tra l'altro ci siamo incontrati il 26. Mi ricordo chiesi a Gianluca Cannavo la possibilità di conoscere il presidente della Cireale, per la possibilità di dargli una mano e poi da una mano invece si è arrivati ad avere le redini in mano di questo bel gruppo. Quali sono già i primi passi? Intanto l'ufficialità, il passaggio di quote, cosa c'è stato di ufficiale o quanto ci sarà di ufficiale nei prossimi giorni? C'è stato oggi un preliminare di quote che abbiamo fatto con Rosario Pennisi e con Giuseppe Cucuzza, che hanno firmato per nome e per conto della Cireale e anche per delega degli altri soci. Io invece ho ricevuto tutta la documentazione, che ovviamente anche visti i giorni i miei commercialisti e gli avvocati di Milano controlleranno nei prossimi giorni quello che è l'andazzo della situazione. Abbiamo già un quadro, ripeto, ottimo che mi è stato presentato da Cucuzza. Il giorno di Santo Stefano in due ore ha veramente fatto tanto. Quindi titolare in tutto e per tutto della Cireale Calcio. Presidente, come seguirà le vicende ovviamente perché il lavoro ti porterà di nuovo in Lombardia? Sono sicuro che farò arrivare un amministratore direttamente da Milano, uno dei miei uomini in azienda direttamente da Milano. Poi ho chiesto gentilmente, oltre a Saro di fare vicepresidente, anche a Giuseppe Cucuzza di seguirmi in tutto quello che sono gli ordini di pagamento piuttosto che la gestione dei calciatori e dei giocatori, anche per esempio di voi giornalisti che non avevo il piacere di conoscere. Grazie.